E poi l'abbiamo avuto l'altro giorno a parlare di musica, ma ce l'abbiamo noi invece di nuovo a parlare di calcio. Max Fogli, ben ritrovato. Ciao Max. Buonasera a tutti, buonasera a Nicola. Ecco, tu invece sei classico, ma ti volevo chiedere come mai questo... Per dare il tocco di kitsch. Questa variazione. È uscita così là fuori, un tocco di kitsch. Un po' etnico, un po'... No, poi se ne mette a strada, vedi, prima ho detto Total Black, Total White, tu sei mezza strada. È vero? Sei un po' iena anche, diciamo. Un via di mezzo. Max, a te la parola, quindi, che cosa aspettarsi da questa partita? Intanto ti parto con due noiosissime settimane senza calcio, senza campionati, dove tantissimi italiani non sapevano più dove girarsi e hanno confidato sulla nazionale per rifarsi e non è andata bene in nessuna delle due partite. Quindi diciamo che autunno-inverno all'Ido Nazioni e se non c'è il calcio non c'è da fare. Già è tragica dalle altre parti, poi se non si manca il calcio dove non c'è neanche la popolazione arriviamo a avere livelli di rabbia. Però ci sfoghiamo sulla terza categoria, che è molto rigogliosa dalle nostre parti. Però a parte gli scherzi, sì, ormai l'abbiamo detto più e più volte, è il momento di dare un segnale con una vittoria. Noi vogliamo i punti. Oggi non ce ne frega né di giocare bene né di giocare male. Va bene anche un 1-0 al 96esimo in fuorigioco col VAR che lo conferma. Anche perché la classifica non è proprio bellissima. Esatto, anche perché la situazione è drammatica. Quindi l'unica cosa che può sdrammatizzare è il risultato. Poi come viene, chi se ne frega. Ecco, sulla classifica sentiremo più tardi un commento del grande Fabio Capello. E tra l'altro anche una gran conclusione perché ha tirato di collo esterno e la palla era diretta all'incrocio dei pali. Reattivo il portiere in questa occasione, in questa circostanza. Paratona. C'è un calcio d'angolo per l'Alessandria che continua ad attaccare e sarà nuovamente calcio d'angolo. Spal, subito in affanno. Sto provando a recuperare la formazione dell'Alessandria. Ce l'ho mandata nella chat. Ah, fantastico. Bello questa comunicazione diretta. Quindi questo è importante. Max? Per rispondere al messaggio io mi accontenterei che giocasse un numero sufficiente di partite nella Spal. Nella nazionale ci guardiamo. Nel senso che il giocatore è fermo da diverso tempo. Nessuno mette in discussione le sue qualità tecniche che sono veramente importanti. Ha un passato importante ed è anche relativamente giovane per quelli che sono gli standard di età di oggi. Quindi tutto sta nel capire se il giocatore si ambienterà bene e se è in condizioni fisiche decenti. Poi un'altra cosa Matteo, ma non è che la numero 10 l'hanno lasciata vuota per il colpo di gennaio? Ma può essere, può essere. No, infatti se mette in questo capire lo devo chiedere anche voi. Cioè perché non c'è questo numero 10? Che cosa potrebbe accadere secondo voi? Diciamo che l'eredità della 10 di Flockeri non è proprio leggerissima. Facendo qualcosa Max che era lì che stava guardando, non so che cosa stessi consultando, se classifiche, commenti o altro. No, stavo consultando la disposizione in campo dell'Alessandria che gioca con una difesa 3 che delle volte sembra una finta difesa 3 perché spariscono, ricompaiono uomini, si muovono molto bene in campo e per come l'avevo sentita dipingere un po' da tutti sembrava una squadra materasso rispetto a quella che è la prestazione di questi 15 minuti dove possiamo dire più Alessandria che Spal. Ecco, questo infatti deve fare un po' riflettere. Questa squadra, l'Alessandria, non riuscirà a tenere in un ritmo così per 90 minuti. Infatti quello che volevo dirti io era che solitamente è la Spal ad arrembare nel primo tempo per poi esplodere al sessantesimo. Chiaramente l'Alessandria non può tenere questo ritmo per tutta la partita sicuramente ma neanche per tutto il primo tempo. Quindi bisognerà essere bravi anche a colpire nel momento in cui questa squadra rallenterà perché non sta dando un segnale di voler rallentare. Giocano anche un po' con confusione anche l'Alessandria perché non li vedo azzeccare proprio tutti i passaggi però rischiano spesso la giocata, provano il tiro, cercano gli esterni, giocano. Ha avuto un'occasione clamorosa. Può sempre accadere... Buona Spal che si presenta in avanti, un tiro cross che esce di un metro alla destra del portiere. Colombo. Di Colombo. E diciamo la prima conclusione è verso lo specchio della porta anche se non è proprio arrivato nello specchio della porta. Secondo me il numero ideale è 23-24. Perché si gioca in 16 adesso, ricordiamo. Sì, sì, certo. Però tutte le squadre giocano in 16. La Spal non sempre, perché non so se ha sempre fatti cinque cambi. Secondo me è un errore, è un errore quello. E comunque se li fa, li fa comunque sempre degli ultimi minuti. Dai, Mancosu, dai! È gol! È gol! È grandissimo gol! Un grandissimo gol di Mancosu. Grande, grande. Un grandissimo gol di Mancosu che si ferma sulla linea, non lascia uscire il pallone. Manda al bar tutta la difesa per piazzarla nell'unico spazio che c'è tra fortiere e difensori. No, vabbè, ragazzi, questo è bellissimo. Questo è un gol da campione. Allora, io credo che il tuo sguardo, Matteo, e anche il modo in cui stai il cane scivolando, potrebbe diventare... Non ci credevi, ma la palla era entrata da uno o due secondi. Non ci credevo, perché pensavo la mettessi in mezzo. Ha beffato tutti, anche noi. Ma in realtà anche io pensavo la mettessi in mezzo. Non ho detto niente perché sembrava quasi un esterno della rete, mentre invece ce lo fa vedere il replay, si ferma proprio, li fa sedere a terra e la calcia... È quasi impossibile. Li fa sedere a terra e calcia e si siede a terra anche il portiere che non si aspettava la conclusione. Bene, allora già qui iniziamo a smuovere, a svoltarla bene la partita. È un po' di calze. Con il senno di poi non l'avresti rimesso in mezzo, vero? No, mi dicono, per caso ha fatto gol a spalla? Sì, ha fatto gol a spalla, si vede che si è detto il mio verso. È un bellissimo gol, bellissimo gol. Credo tra i più belli che abbiamo fatto quest'anno, ecco. No, sicuramente più bello della stagione, dai. Tecnicamente... Anche quello di Colombo ad Ascoli non era male. Però qui è stato un gol intelligente anche. Io ragazzi, ve l'ho sempre detto che è mancoso un grande giocatore e non ha mai deluso le aspettative. E c'è il pareggio dell'Alessandria. Il solito errore difensivo che lascia l'attaccante e l'avversario da solo. Sì, abbiamo gioito troppo in fretta. Se non sbaglio. Che salta il portiere con un pallonetto e la mette dentro. Il portiere in uscita pareggia subito dopo due minuti l'Alessandria. E vorrei rivedere il replay ma pare lo stesso errore di ogni volta. Ovvero la squadra che si addormenta in avanti, lancio lungo e scavalca tutta la squadra. Io voglio vedere se posizioni... Cioè uno non fa il tempo a godersela almeno. Vediamolo. Il classico errore con la difesa altissima e il giocatore che parte sul filo del fuorigioco. Uno stop e un colpo sotto ed è 1-1. Per onore di cronaca, un bellissimo gol anche questo. Sì, sì. Perché taglia completamente tutta la difesa. Però l'errore è sempre lo stesso. Io prima vi dicevo stupido l'errore perché comunque non c'era veramente nessuno. Ce l'hanno regalato. Posso contraddirvi? Io do più meriti al giocatore dell'Alessandria che dei meriti nostri perché è stato un bel gol. Taglia completamente la difesa. Non lo voglio vedere lasciato lì davanti così però. La difesa così alta appena dopo si è andato in vantaggio. Che nervoso. Ma veramente uno non fa il tempo a gioire un secondo che... E torniamo in diretta. Partita vivissima. 2-1 per la spalla. È successo proprio appena si è andato in pubblicità. Non vi dico Agnelli cosa ha distrutto stavolta. Sai... Pensavo... E' una bellissima ragazza secoli. Vabbè comunque basta abbiamo fatto questa parentesi. C'è il 2-2 dell'Alessandria. Incertezza proprio di secoli. Cioè ma è incredibile. Cioè ma è incredibile. È incredibile. Che non trattiene la palla e sulla ribattuta c'è il 2-2 dell'Alessandria. Comunque è veramente pazzesca sta cosa. Ci stanno dietro. Sotto la curva dei propri tifosi a desultare. Anche qua guardiamo la posizione. Corazza. Ed è ancora Corazza. È una partita veramente soffertissima questa. Però c'è un'incertezza del portiere. Adesso vorrei rivedere. Sì. Non riesce a trattenerla e non la respinge. Il gol chiaramente è buonissimo. Beh è... Incertezza. Il tiro era difficile. Mi ha preso un giro strano. Era difficile però o me la respinge o la blocchi. Io però ragazzi qua me la prendo più. Intanto c'è un check. No. Convalidato. Me la prendo anche con Caparadossi perché lascia totalmente lo spazio. Si è fatto sorprendere. C'è stata una deviazione anche sul tiro. Mi è successo un po' di tutto. O niente non ce la facciamo a stare in vantaggio. Veramente. Vabbè così come ha fatto due gol a Sparta vediamo che arrivi anche il terzo a questo punto. Spero che questo gli dia stimolo per reagire immediatamente. Adesso voglio il pronostico però. No. Pronostico finale. No. Oggi è impossibile secondo me. No. Esatto. Ma vi dico ancora prima di dire un 1x2 immaginatevi pronosticare come finirà a livello di gol. Attenzione. Terzo gol. 3 a 2. 3 a 2 Alessandria. Pazzesco. Pazzesco. E la difesa. Una palla buttata in mezzo. Una conclusione a colpo sicuro dal dischetto del rigore praticamente. C'è 3 a 2 e c'è anche il mister dell'Alessandria che carica mille. Io retifico. Una difesa inguardabile. Pazzesco per avere tre gol in 37 minuti. Tre gol in 37 minuti. Pazzesco. Cioè anche se a parte che è paradossale avere già 5 reti in 38 minuti. Eh infatti. È una roba che a memoria è difficile. Forse quella è l'unica cosa che mi dà un po' di fiducia è il fatto che le difese stanno mancando tra due le parti e che quindi anche un po' la fortuna e la casualità possono portare a segnare ancora. Però la partita è veramente disordinata e brutta e la difesa della spalla è impresentabile oggi. Allora diciamo una cosa. Tu le partite quando è che le vinci? In generale fai un bel campionato. Quando? Quando è la miglior difesa chiaramente. Adesso io non pretendo di avere la miglior difesa. I mobili. L'unica cosa che mi dà fiducia è il fatto che comunque anche la difesa dell'Alessandria non mi è sembrata rocciosa. No, no, no. Quindi giocando si può andare a segnare. Max, cosa facciamo? Il gioco di chi sbaglia di più? Eh, giochiamo una partita a calcetto che vale tre punti. Questo B va bene se vado a vedermi Renazzo Casumaro. Ok? Vedo dei gol, livello amatoriale. Ma in Serie B prendi tre gol in 38 minuti dall'Alessandria che ripeto ha il peggior attacco della Serie A. E se la Serie A dice 4-3 va bene lo stesso? Sono ancora colà mentalmente. Se si dice 4-3 va bene lo stesso però, anche con i tre gol subiti. Sì, 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 quello va bene. Però se tu vinci questa partita, credo che due domande sulla difesa devi comunque fartele. Sì, ma quello io me le sarei fatte a prescindere da prima perché tante partite sono state perse con degli errori clamorosi della difesa, di mal posizionamento, di errori individuali. E quindi arrivare, cioè non lo scopriamo oggi che questo è un limite della squadra. E comunque l'Alessandria continua adesso per attacco, vedo. Ma entrerà Rossi secondo me sì. Soprattutto se... Con quanti minuti? Beh, penso che abbia... Un quarto d'ora sulle gambe. Un'autonomia al massimo di 10-15 minuti. Però... Non possiamo neanche pensarci adesso. No, ma vuol dire... La faccia di Matteo al tuo perdere... Non è una giustificazione, si è chiaro. Ma se io perdo in casa con l'Alessandria, mando via l'Alessandria. Esatto, quello è buio. Ma la regia ha un fermo immagine di Matteo quando hai pronunciato la parola perdere. No, però io se perdo in casa dell'Alessandria, ho dei dubbi sull'Alessandria, se confermarlo no. Questo 11 che ci sta facendo impassire. Adesso guardiamo nella formazione. Perché non ci siamo preparati, ma i nomi di tutti non ce li ricordiamo. Arreghini. Questo Arreghini, da lui nasce il gol del 3-2, ha fatto un'azione sulla destra che mi ricordava Garrincia. C'è chi è Garrincia? Sì, sì, beh, è chiaro. Volevo mettere in difficoltà. Che era Zoppo, anni 70. Che però tra l'altro in Brasile è riconosciuto come migliore di Pelè. Esatto. Garrincia, ricordiamo, a mito due mondiali, giocava pur avendo avuto la poliomenite. Pazzesco. Dopo, poveretto, è morto in disgrazia perché ha avuto dei problemi. Per me è stata la destra più forte della storia. Soprattutto contestualizzato quegli anni. Esatto. Figur di perdere in casa dell'Alessandria che sono ultimi, penultimi. Io penso che si può ancora raddrizzare che si vince. Ma anch'io lo penso che si può ancora vincere. Però serve veramente una scossa nel secondo tempo non da poco. L'hanno ascoltato. L'hanno ascoltato. Io sono curioso adesso però perché questo è il crocevia della stagione per la SPAL. Stai perdendo 3 a 2 in casa con una delle squadre più scarse del campionato dopo un filotto di non vittorie. Quindi tu vieni da me che è da mandare via se perdi. E se me la perdi le certezze poi non è che sono poi così tante. Ma anche da parte del Presidente che ha sempre confermato piena fiducia. Io capisco la piena fiducia ma se si continua a non vincere poi dopo si può anche cambiare idea. La storia insegna che tantissimi Presidenti innamorati dei propri allenatori poi quando i risultati non arrivavano li hanno presi da parte. Gli hanno detto mi dispiace ma è il momento di cambiare per il bene della società e della squadra. Io penso che questa sia la chiave di volta della stagione. O si riesce a ribaltarla ma neanche pareggiando potrebbe essere un risultato soddisfacente. Pareggiare allungherebbe un po' anacquerebbe un po' la cosa alla domenica prossima. Questa va vinta. I gol vengono da lì. I Pardelli e Caparadossi umiliati. Diciamo che è altalenante perché ci sono prestazioni dove evidenzia dei difetti. Dimmene una che ha giocato bene. I Pardelli sto parlando. E' sempre da 5-5,5. I risultati però condizionano sempre il giudizio della difesa in generale. Perché dimmi una prestazione importante di un altro difensore dove non si è vinto la partita. Se si perde si pareggia. Sono d'accordo che io perché se in questo momento fossimo anche solo sul 2-2 saremmo in fase di critica. Però forse non saremmo così feroci con la difesa. Molto scarsi ma almeno avere un'idea di gioco. Ridatemi semplici. Oh, ridatemi semplici. Questo è come il Natale. È come il Natale. Torna sempre. Chiama al posto di Mazzarri. Dipende sempre dai risultati. Il calcio vive solo di risultati. E il mister non ha fatto neanche un cambio. E tra l'altro anche Mora ha fatto un'entrataccia abbastanza dura a metà campo che non si è capito se l'ha ammonito o no. Eravamo forse un attimo distratti ma rivedendo il replay mi sembrerebbe strano se non fosse stato ammonito. Ma io stavo guardando sui giudizi di Federica e non l'ho visto bene. Proviamo a capire se c'è stato l'acquisto di novembre prima di arrivare a quello di gennaio e vedere se Rossi sarà un giocatore che potrà essere determinante. Cosa facciamo? Ci affidiamo a un giocatore che ha due anni che fermo? Eh però se l'abbiamo esaltato vogliamo anche vedere i risultati da parte sua perché ok il blasone. Non si sapeva neanche se poteva giocare. Adesso vediamolo perché allora tutto il fermento che c'è attorno a Rossi andrebbe subito spento e giustamente i tifosi poi potrebbero reclamare di avere un attaccante di livello. Dobbiamo capire com'è però vogliamo anche vederlo. Mentre vedo che sto vedendo in questo momento la piattaforma di Whatsapp sta scrivendo quindi mi sembra che tra un po' arriveranno vari messaggi tutti in blocco. Io spero che facciano gol adesso e che li smentiscano tutti. Ecco poi non spiega che lo stanno scrivendo però è ovvio che un po' di critica un po' di malumore ci sarà sicuramente. Allora devi farmi il 4 a 3. Per materializzare il 4 a 3 pronosticato prima. Tra parentesi non bisogna prendere gol. E beh so che è un po' un sogno forse irrealizzabile però in 10 minuti devi pareggiare dai se vuoi provare a portarla a casa. Io dico che è il momento anche di fare i cambi prima del solito. O Brozovic o Chessi. Allora Rossi me lo metti prima. Ma Max hai mai due anni che non fanno la partita ufficiale. Però l'hai portato in panchina vuol dire che qualcosa... Ma sai ma dai vieni forse... Se non ha neanche 20 minuti lo lasci in tribuna. Secondo me l'ha fatto anche per a livello psicologico aiutare anche il ragazzo a fargli riassaporare un po' il clima partita. Penso io eh. Ma ne ha bisogno Rossi di questa cosa. È due anni che non gioca. Sì però uno che ha giocato in nazionale che ha bisogno di riassaporare il clima partita in B. E questo deve entrare e spaccarla se sta bene fisicamente. L'ultimo campionato che ha fatto ha fatto l'MLS che è un campionato americano che è paragonabile forse alla nostra serie. C. Però si legnano lì eh. E non ha fatto neanche un gol tra l'altro. E quindi... A me... Cioè ma per difendere il ragazzo. Perché non possiamo puntare su uno che ha due anni che non gioca. Io mi aspetto da quelli che sono in capo qualcosa. Io da tutti. Anche da lui perché se è arrivato ed è arrivato anche con un clamore deve dimostrare anche lui di essere ancora Rossi. Mamma mia che brutto tiro meccionale. E se non tiro fuori deviato. E di essere da SPAL perché non è che andare in B significa andare a passeggiare perché si è fatto la serie A alla nazionale. Primo cambio. Entra da Riva. No crociata. La B è comunque il campionato impegnativo eh. A posto di Mora. Viviani si riesce a metterla in mezzo bene. Calcio d'angolo. Angolo. Ha munito a Righini per l'Alessandria. Solo della SPAL. Attenzione all'Alessandria. Contro piede. Mamma mia bravo. E secoli. Indovina il tempo questa volta. Anticipa l'attaccante. Bravo 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 secoli in qua eh. Ho notato che le squadre vengono più seguite quando si va male. Ah beh ma è sempre così eh. È vero o no? Ma perché da quello sfogo dello spettatore, del tifoso che deve dire la propria insomma. Non c'è niente da aggiungere se si vince. Ma no assolutamente. Se si vince va bene così. Per cui va bene. La zona bianca con i cantieri col bonus c'è l'affollamento. Certo. C'è la tribuna e la curva. Ma ti dico delle volte, non sto lì fisso eh. Ma delle volte che io mi fermo due minuti a vedere. Eh ma caro mio qua. Ti stai preparando. Io per 40 eh. L'età over 40 si inizia a vedere. Quindi se siete un cantiere e vedete Matteo Agnelli trattatelo bene. Ma è anche il berretto, la coppola. Cioè no. No, no. Non è che sto fermo lì a guardare. Però due minuti... Attenzione all'Alessandria. Per cui... Ma dai anche consigli. Vabbè, la buttiamo un po' sul ridere signori perché insomma qua c'è un po' da piangere in campo eh. Per cui... Ci saranno pochi cambi però intanto 63esimo, anzi 64esimo scattato adesso e non c'è nessuno nemmeno che si scalda. Un cambio, crociata per Mora. Ma io ripeto, secondo me fa anche pochi cambi. Ma per andare a segnare. Crociata per Mora. Un cambio che? Allora diciamo che forse Mora aveva anche dei problemi fisici, non lo so. O che sarebbe altro. Piede Alessandria. Ma loro gioccano bene. Loro gioccano bene. Attenzione. Che un'idea. Conclusione Paraseculin. Per fortuna hanno fatto tutto bene tranne il tiro e si rimane sul 2 a 3. Dai però ragazzi veramente. Peccato perché speravamo in un cedimento dell'Alessandria che sembra non esserci neanche a livello fisico. Assolutamente. Anche un tiro di Alessandria che vuole veramente portare a casa i tre punti. Questi hanno fatto schifo fino a sabato scorso, devo venire a fare i fenomeni oggi a Ferrara. Però mi viene da chiedere, hanno fatto schifo con le altre squadre? O è la... Che è inferiore quindi li fa sembrare dei campioni. Chi è che fa più schifo nel quadro generale? Perché è quello, bisogna vedere sempre il confronto di gli uni contro gli altri a fine conti. Però devo dire che l'Alessandria effettivamente sta divertendo da un certo punto di vista. E anche Mancosu, un gran colpo, un gran gol. Sì, poi si è visto poco. Poi? Ma come tu questa cosa non me la concepisco. Seppure non ci sia un umore alle stelle. Sì, ma dai, è come dire, è come che tu, Max, mi dici, domani vai a mare con Federica. Ti tirino in faccia perché so che è possibile, no? Ma no, perché mai dire mai. Ma solo perché lui è fidanzato, non peraltro. No, che io vado con Federica. Ah, pensavo che c'essi Max che va a mare con Federica. Beh, secondo te, no, no, la prendo io. Ma io non la vedo improbabile, mai dire mai. Scusa. Vabbè, comunque questo 3-2 ce l'ho qua. E si scalda Rossi, ufficiale, si è tolto la maglia, la giacca. Si scalda e ancora seduto però. Non si ha paura di farsi male. Ma pensate che bella favola sarebbe questo calcio con Rossi che entra. Con Pepito che fa gol. E fa due gole, si vince 4-3 con due gol di Rossi. Ragazzi, alla fine dei conti. Che abbraccia Taccopina e... E alla fine dei conti è quello che stanno tutti sperando. E poi ci svegliamo. L'arrivo. Ci svegliamo e andiamo a lavorare. Ma lo stiamo sperando anche noi però. Perché il solo fatto di averlo pensato dimostra che lo stiamo sperando. E ovviamente... Vabbè, dai. Attenzione, è Colombo qui. Ma secondo voi questa è una scelta imposta in questo momento da... È una scelta della disperazione secondo me. Il mister Tacco. No, ma sono curioso... Ah, può essere. Però ti dico, sono curioso di vedere chi cambia. Perché se cambia in Belchiorre, che è il cambio naturale. Per me Colombo e Rossi giocano poi. Sì, però, Max, io giocherei a tre punte o due punte e mezzo. È però l'allenatore che non ha mai dato da intendere di voler cambiare il modulo. Lui ha la sua fissa. Ma se perdo in casa dalla penultima al settantesimo... Eh, lo so, io la penso come te. Però... Se non rischio lì, quando rischio. Però conoscendo Clotet, lui con le tre punte pure non si gioca. Doppio cambio per la spalla. C'è anche un altro ragazzo che sta per entrare ma non ho visto il numero di mani. Adesso vediamo tra un attimo. Con le tre punte pure non ci ha mai giocato. Diciamo che... Neanche a Brescia. Può essere vista come la mossa della disperazione. È la mossa della disperazione anticipata di qualche minuto. Chi è Episcopo? Però devi provare almeno, almeno a fare il pareggio. Io mi aspetto qualche giocata. Adesso non mi aspetto che faccia uno strappo di corsa che ne salti tre e entri in porta con la palla. Sì, ma anche... Però a meno che dimostri di esserci ancora con l'intelligenza del calciatore. Intanto questo momento che Rossi entra in campo verrà fatto vedere su tutti i media. E meno male... Che senza infortuni avrebbe fatto... E meno male che solo io non vedo che Trippardelli è inguardabile e il mister lo cambia perché ha fatto una presa inguardabile e va su Ceglia Celia. Questo è il dilemma che ci portiamo avanti da un tre mesi. Ceglia Celia lo chiamiamo. Ceglia Celia. Ceglia Celia non è male, hai capito? Ma sicuramente è meglio che tra l'altro è anche un ex. Io spero che non giochi con la paura. Perché comunque sai... Io l'ho già visto fare un allungo, eh. Quando... Sì, ma sai Max, quando hai tanti infortuni nelle spalle... Hai paura. Non giochi, secondo me... E spero vi essi smentito, ecco. Però, guarda, non potete smentirmi che a me stia piacendo più l'Alessandria che la spalla. No, no, ha meritato il vantaggio. Vanno con più cattiveria sulla palla, ci credono di più. Noi, oh, cioè veramente si mette gli zombie. Per fortuna questo traversone è andato fuori l'orbita perché... Guarda, ti dico, eh. Sono consapevole che questa è una squadra da salvezza. Stai facendo anche tanto. Ma come hai detto prima... Ragazzi, purtroppo non possiamo starvi le immagini di Tacopina, però hai messo così. Pare che intesito. Non vi ricorda? Non vi ricordo un po' Mattioli? Quando le cose andavano male? Non vuole entrare a questa palla proprio. E quello lì, il tuo 4-3 è quello, quei due palli. No, vabbè, ma il primo palo comunque ci può stare un tiro sul palo. Si dice, deve fare la convergenza ai piedi. Cioè, era impossibile riprendere il palo, non ci siamo riusciti. Tra l'altro è uscito Colombo. Palla in avanti, quel che capita, capita. Non abbiamo idee, non abbiamo idee. Però anche questa cosa della fortuna, dobbiamo dire che non è che possiamo sempre appellarci alla fortuna. La fortuna ti viene se ne fai di più di azioni. No, stop, solo un secondo. Conte e Capello, che tu hai intervistato, hanno detto che una delle cose fondamentali nel calcio è il... Posso dirlo il... Sì, sì, anche. Il fondoschiena, ecco. Il lato B. Cosa che noi comunque non abbiamo, ecco. Però quant'occasione da gol ha creato la SPAL per poter affidarsi alla fortuna. No, c'è da dire, ragazzi, quel doppio palo di prima, insomma, dove andare dentro. Lì è stata un'occasione mancata. Cioè, sono tantissime, sono tantissime. Spero che non le giochino tutte così. Esatto. 7 per 3, fa 21 punti disponibili. Vedermi una bella vittoria. Sì, ho detto, dai, pensavo fare gol Colombo. O fare gol. Giornata di festa. Giornata di festa. Sì, sì. Poi stasera chissà cosa succede. Ma in realtà io l'ho capito il mood. Era già partito. Ma no, perché comunque loro sono arrivati qua e sto peggior attacco e un sacco di assenze. E hanno fatto solo un punto in trasferta. Oggi non dico che è una passeggiata. Non sono i tifosi simpatici e folcloristici. Sì, sì. L'unica cosa che posso offrirti dopo se vuoi un caffè per consolarti un po', non che non che... Amaro però. Amaro. Ah, è vero. Non metti lo zucchero neanche lì proprio. Corto e amaro come la vita. L'unica cosa che mangi... Difensore centrale. Sì, un difensore centrale. Anche un terzino sinistro volendo. Però il difensore centrale manca di più. È quello che dia la guida. Però Vicari e Caparadossi comunque bene o male ci possono stare. Azione, spalla in avanti. Si reclama il calcio di rigore, vediamo. Ti sfottano perché sei spallino. Invece è fallo in attacco. Mi fa così quando passano. Ah, dai. Si perdiamo tre a due, tre. Vengono in giro. Io faccio video di niente, vado dritto. Ah, cosa vuoi dire? Ci sono proteste nel frattempo perché la spalla ha reclamato il rigore ma... Se è rigore lo danno perché c'è il VAR. In realtà era probabilmente fallo in attacco. Come fai se è fallo in attacco però? Eh, questo me lo chiedo anch'io. Infatti le proteste ci sono state. Lo stiamo rivedendo nel replay. Melchiorri anticipa il difensore. No, niente rigore. Non si è capito il perché. Oggi in questo momento avrei potuto davvero fare il nostro caso per cercare di... Allora il fallo... Di movimentare il risultato. Sai cosa ho sbagliato qua Melchiorri? Che ha fatto un tuffo che sembrava la Pellegrini alle Olimpiadi. Ah, così fa? Sì, è certo. Un paragone un po' azzardato però... No, no, certo, chiaro. All'altro c'è un cartellino rosso per un nostro giocatore, per Viviani, che offende l'arbitro perché non dà il rigore. Un'ingenuità pazzesca di Viviani. Cavale, adesso rimaniamo pure in dieci all'ottantasettesimo. E poi prenderà almeno due o tre giornate perché... Però io... Ma stai calmo, ma stai calmo. Tanto prende a calci anche la panchina. Però... Andai. Io rivedendolo però lo vorrei rivedere più volte perché non capisco perché non ci sia stato neanche... Il risultato adesso è che siamo all'ottantottottesimo e siamo in dieci. Questo non giustifica... Non giustifica la reazione certamente però... Passo che ha avuto Viviani. Non capisco perché non è stato riguardato. Cioè nel senso che non siamo una partita da parrocchia, quindi insomma sono dei professionisti un attimo a cercare di tenersi, soprattutto quando sei in una situazione di... Poi Nicola, un conto se lo fa un ragazzino che non ha esperienza. Appunto. Ma uno di trenta passa anni? Ma no, ma... Ah, vedici anche per l'età, certo. Certo. Certo, poi... Il danno al recazzo è che ti manca la prossima. Esatto. Sì, e quella dopo ancora. Come nella maggior parte delle volte in cui il primo tempo finisce con gole Ader, il secondo... Finisce le team violate. Qua Ceculina ha fatto una bella parata, eh. Oh, sono anche economico, una Margherita. Una Margherita. Una Margherita diviso tre poi, cioè... No, ma la Matteo l'offro, la Matteo. No, però dico sono in trea finanziaria. Un paio di euro a testa. Un paio di euro a testa. Un paio di euro a testa, siamo a posto. Non gigante, però. Non tirata, non tirata. Quattro minuti di recupero prima che finisca questa agonia totale. Però io più la rivedo, più la rivedo quest'azione, più secondo me è rigore. Perché gli dà una gomitata, lo scalcia da dietro. Allora... Anticipato nettamente, cioè, questo... Ci può stare. Però... A centrocampo l'avresti fischiato questo pallo? No. Io, guarda, sono uno che farebbe giocare il più possibile. Perché se tu guardi una partita, dura 94 minuti. Il tempo effettivo sono 45-50. Purtroppo anche i rossi non si è visto. No, vabbè, un poveretto. Chiaramente. La situazione della squadra non lo aiuta a mettersi in luce. Però adesso, guarda, a me queste cose mi dà fastidio. Perché questo atteggiamento di provare, andare su a fare gol, noi non l'abbiamo avuto dal 46esimo. Perché è la forza della disperazione in un momento in cui sta crollando un po' l'Alessandria, ma perché è il 92esimo. Adesso non ne ha più l'Alessandria, ma ha dominato tutta la partita. Quindi si sta cercando un modo per beffarli a questo punto. Perché fare 3-3 sarebbe una beffa per l'Alessandria. E anche secoli in aria, attenzione. Se fa gol secoli, veramente, guardate. E invece direttamente sul portiere. Calcio d'angolo di crociata, battuto in modo uscito. Sono bello vedere il secoli in aria, però. Se ne è stato fantastico vederlo fare gol. Un manuale di come non si batte il calcio d'angolo. Passaggio al portiere, praticamente. Questa è forse l'ultima occasione per la squadra, Nicola. Dai, speriamo bene. Meno di 20 secondi al termine. Alessandria è tutta dietro, un lancio lungo. Eh, vabbè. No, aspetta. La rimette in mezzo, ma è direttamente sul portiere. E finisce qua. Lascerà scadere i secondi, per poi... Finisce qui. Basta. Spal 2, Alessandria 3. No, sai quando proprio ti arriva quella roba addosso che dici... Ma come? Come cosa? Un brutto segnale, soprattutto in prospettiva. C'era anche un'assenza in più data dall'espulsione. Sì, direi che per quanto uno possa cercare degli spunti positivi non si trovano oggi. Diciamo che qua sui social molti dicono che il rigore c'era. Esattamente, Max. C'è Alex Mari che ci saluta e ci manda un abbraccio. Ciao Alex. Salutiamo. Ecco, quindi amici, compagni di merende in fatto di musica. Ecco, diciamo così. Ciao Alex, intanto buon sabato. Al Pisa il 29, 29 e 12. Io vedo 4 punti in tutte queste partite. Sì. Vabbè. Un pareggio a crotone e un esplodio prima di Natale. Io ne ha ozzardato 7 mentalmente. Tu Fogli stasera si trasgredisce? Mi sa che faccio un asporto. Un asporto, vabbè. Pijama e trasgressione domestica. Ma sai che le adoro queste cose, eh? Potrebbe riguardare la partita. No. Posso chiedere a Michele e a Daniese che sono in regia cosa faranno stasera?